Ho consumato con i gomiti. Molti colleghi di città dicono anche il medico condotto è un medico. Eppure per prendermi la laurea ho consumato con i gomiti molti tavoli zoppicanti e col sedere molte sedie impagliate, scarne come vecchiette. Studiavo fitto. Accanto alla finestra della mia stanzetta grigia da cui vedevo sempre tre alberi e la neve e adesso vorrei gridare a quei colleghi di città che ridono di noi con tutti i denti. Anche una giornata di un medico condotto può essere un grosso do di petto. Giorni fa un contadino che stava in piazza a masticare la vecchiaia in un attacco d'ira gli svolò la pressione e quando arrivai reggeva l'anima coi i denti. Non so come l'ho salvato. Il giorno dopo Feliciano il farmacista e il maresciallo dei carabinieri l'hosta e sua moglie, Libero, il fornaio e Antonio, lo scemo del paese, vennero da me per ringraziarmi. Anche un medico condotto può fare della sua vita un'eternità. Commento Chi giudica migliore un lavoro rispetto a un altro non sa che nella realtà ognuno crea, percepisce le esperienze che per lui sono le migliori perché le più utili per lui. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.